Io rappresento lo studio Batoni, uno studio che collabora con Zazzeri ormai da quattro anni e con loro abbiamo avuto molte occasioni di lavoro e abbiamo concluso quest'anno appunto con questo progetto Q-Quadro è il prodotto che viene presentato in assoluto, novità per loro, studiato in collaborazione con tutto lo staff e rappresenta l'anima della filosofia aziendale di Zazzeri 2016 per cui un prodotto studiato in modo che possa essere per tutti, un progetto nato proprio a tutto tondo partendo da quello che è il design arrivando a quelli che sono i concetti di vendita e di approccio al mercato Abbiamo ottimizzato i cicli lavorativi riducendo tutti gli sprechi anche di materiale ottimizzando proprio anche l'elemento rubinetto oltre al risparmio energetico dell'acqua per cui ecco, un qualcosa di veramente studiato dalla A alla Z Il rubinetto non si completa se non con una serie di doccioni veramente particolari di piccole dimensioni assemblabili perché insieme possono creare geometrie e forme molto molto particolari e cosa ancora nuova, nuovissima, una cascata circolare che a secondo la potenza dell'acqua varia il colore di uscita Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!